Ovviamente è unica per tutti. L'agricoltura solentina è storia, qualità, tipicità, tradizione e rispetto dell'ambiente. I caratteristici agroni di solentini offrono frutti succosi e salutari, rendono unici gli impareggiati nel panorama e costituiscono un altro fio dell'interessa. L'agricoltura, curando e mantenendo vivo questo settore dell'economia, valorizza il territorio e continua. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Perfetto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.